oh e che cazzo è qui? milan 2 sassuolo 5 aspetta non ho letto bene milan 2 sassuolo 5 e qui ti prendi 5 puppette ti prendi aaaah 5 puppette milanisti a gennaio inizia un nuovo campionato a gennaio vedrai il napoli cala il napoli e vado a stare zitti zitti muti muti vado a stare solo zitto vado a stare solo zitto zitti ad accusare 5 gol dal sassuolo state facendo una grande figura di merda mamma mia si è girato il giro si è girato il giro ma io ma siete con le pezze al culo siete con le pezze al culo state in da merda state mamma mia i pioli pioli sono fire dove è i pioli? pioli che è successo? se ne vedete 5 pure oggi mamma che figure di merda che figure di merda che stai facendo che figure di merda ma io che figure di merda state tranquilli il napoli stasera perderà con la roma quindi state tranquilli rimanete sempre là state tranquilli non c'è nessun problema mi danni 5 puppette avete pigliato e chiedetevi a cuccare come cotto come cotto va faccia ho scoparme gato ha